caro nicolas so che probabilmente volevi solo passare una vacanza in italia ma in fondo nonostante tutto hai fatto molto di meglio hai salvato delle vite ti ammiriamo ammiriamo tantissimo quello che si è riuscito a fare dopo la morte forse è vero i miracoli esistono oltre a questo ammiriamo la tua famiglia che ha fatto il dono più bello che possa esistere con una forza davvero ammirevole grazie a te milioni di persone sono propense a donare la propria vita una che come la tua ne può salvare molte sappi che tra qualche mese il numero di donatori salirà ancora esattamente quando compieremo 18 anni grazie a te tutti hanno ritrovato la forza aiutare altre persone in difficoltà il tuo gesto verrà sempre amato che questo messaggio ci arrivi ovunque tu sia ti portiamo rispetto e speriamo tu possa riposare in pace la tua storia è veramente agghiacciante i tuoi genitori hanno avuto una grandissima forza che è tutta da invidiare rimarrai sempre nei nostri cuori un bacio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti